Ballavano per l'appunto quei 5 miliardi che il governo vorrebbe destinare al taglio del cuneo fiscale. Perché è importante politicamente il taglio del cuneo fiscale? Perché è una misura che va ad appesantire il netto in busta paga dei lavoratori dipendenti che sono per l'appunto quei 15-17 milioni di persone. Il cuneo fiscale è la differenza tra quello che il datore di lavoro spende per il lavoratore e quello che il lavoratore incassa effettivamente. Allora andare a lavorare su quello significa far avere in tasca al lavoratore qualche soldo in più. Che significa far aumentare i consumi e quindi far crescere la domanda interna. Ma soprattutto politicamente ci tengo importante perché è praticamente l'unica misura caratterizzante di questo governo. Perché le altre misure sono tutte spese indifferibili, disinnesco dell'aumento dell'IVA, conferma di reddito di cittadinanza è quota 100, senza il taglio del cuneo fiscale e un avvio di riconversione, transizione verde, Green New Deal, chiamiamolo come vogliamo, diventa una legge di bilancio senza anni. E invece quella cosa lì farebbe la differenza.